Elimatica Elimatica è una manifestazione dedicata alle tecnologie digitali a favore della qualità di vita delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti o fragili. E' costituita da un'area espositiva nella quale si possono vedere, provare, toccare le tecnologie, un'area che guarda anche al futuro con l'area della ricerca, la zona delle app e le stampanti 3D. Ci sono inoltre molteplici convegni e laboratori che consentono sia di fare il punto sulla situazione attuale sia di condividere delle esperienze. Elimatica è giunta alla decima edizione e si svolge presso l'Istituto Superiore Aldini Valeriani Sirani, coinvolgendo moltissimi giovani che mostrano sensibilità per l'inclusione e tanto interesse per le tecnologie. Grazie a tutti!